Ciao, mi chiamo Franco Mazzuca, lavoro in polizia, ho 42 anni. Ho conosciuto il corso base di fotografie tramite Facebook. In questi mesi abbiamo imparato diverse tecniche, pose varie, luci, controluci, ombre, tutto insomma quello che c'è da apprendere al momento, in attesa di altre strategie del maestro. L'esperienza sicuramente al momento è positivissima, poi il percorso insomma ci dirà il risponso. Consiglierei il corso base semplicemente perché è da lì che parte l'istruzione per poter poi iniziare a fare delle foto diciamo importanti.